Da oggi al Senato si inizia a discutere di come decretare la fine del Senato. Si dovrebbe fare, sicuramente si discuterà. Ecco, la riforma di Palazzo Madama. Il clima è surreale, i senatori sembrano dei morti viventi, ci scusino, ma è quella l'impressione che danno. Si aggirano increduli per le stanze del Palazzo. Hanno ricevuto l'ordine di suicidarsi. Se non lo faranno morirà il governo e quindi moriranno anche loro lo stesso, perché poi nessuno li ricandiderà. Insomma, destino atroce. La riforma Renzi-Berlusconi prevede un Senato più snello, diverso dall'attuale, con solo 100 senatori eletti dai consigli regionali, senza stipendio, saranno pagati soltanto i portaborse. Avrà altre funzioni, però non darà la fiducia al governo, non avrà cioè potere di condizionamento politico. Sarà, detto con franchezza, poco più di un organismo consultivo, una di quelle istituzioni di fronte alle quali viene spontaneo chiedersi a che serve. Se servirà qualcosa comunque lo vedremo nei prossimi anni, se lo vedremo, perché se dovesse passare il voto segreto, non è detto che gli zombie non ritrovino il coraggio e tornino a colpire. Intanto ci sono 8 mila emendamenti da superare e anche se Renzi vuole fare in fretta, qualche ostacolo sarà rognoso da superare. Suicidio sì, ma con onore. I senatori non si faranno abbattere facilmente. Hanno tanti di quei nascondigli in cui piazzarsi per poter fare i cecchini. Insomma, oggi a Palazzo Madama è come se iniziasse una guerra per la sopravvivenza, mentre l'Italia sta a guardare.